Sui passi della devozione popolare della fede con cui le popolazioni etnesi sono rivolte alla Vergine Maria per implorare la sua santa protezione dalle calamità naturali, nell'anno del 350esimo anniversario dell'eruzione del 1669, nella Chiesa Madre di Belpasso, parrocchia intitolata Maria Santissima Immacolata, fervono gli ultimi preparativi per l'inaugurazione della Sacra Esposizione Belpasso Mariana, che avverrà alle ore 20 di domenica 12 maggio, dopo la celebrazione vespertina delle 19. Si tratta di un percorso artistico di catechesi che permetterà di conoscere la storia dell'antica Malpasso distrutta dalle lave nell'eruzione del 1669, poi ricostruita in Fenicia Moncada distrutta dal terremoto nel 1693 per arrivare alla costruzione nel 1700 dell'attuale Belpasso. Una storia strettamente legata agli alterni umori dell'Etna, dove quegli amati simulacri salvati dalla distruzione sono simboli e eloquenti di devozione e fede e l'arte uno straordinario strumento di comunicazione ed evangelizzazione. All'interno della Belpasso Mariana, allestita nella navata di Santa Lucia della Chiesa Madre, saranno in tutto collocate ben 15 statue che rimarranno esposte alla venerazione dei fedeli sino al prossimo 31 maggio. Nella Sacra Esposizione saranno presenti simulacri della Vergine Maria venerati sin dall'antica Malpasso sino ad arrivare alle più recenti opere della Belpasso attuale. La mostra sarà inoltre arricchita da un simulacro che si inserisce in un più ampio contesto ettenneo e catanese. Siamo nel mese di maggio e abbiamo la Madonna della Sciara Pellegrina arrivata la scorsa domenica a Belpasso, spiega Monsignor Giovanni Lanzafame, parroco della Chiesa Madre. Si tratta della copia della Madonna delle Grazie del Gaggini, coperta dalla lava nel 1669 ed estratta intatta, che poi venne denominata Madonna della Sciara o Madonna di Mompileri. Come Madonna della lava dell'Etna delle Ginestre presiede la mostra mariana e sarà riportata in processione da Belpasso al santuario di Mompileri, accompagnata anche dall'arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Cristine in occasione del pellegrinaggio diocesano di fine maggio.